Le donne pensano che la loro missione sia cambiarci, anche se sono loro quelle bacate. Io sono una grande fan della genetica. Mi chiamo Kate Carson. Ferma, non si mangiano i criceti. Ferma, non si mangiano i criceti. È solo un gioco. Kate, lascia, 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 Kate, ferma, aiutateci. Vogliamo dei reggisenni che arrapano. Che taglia a porta? Tu che dici? Lo scopo di questa ricerca è sempre stato creare un clone di un essere umano. Pensa che lui ti ha creato solo per avere una relazione con... Un clone! Professore di Springdale voleva dedicarsi alla clonazione umana. Bene.